C'è un ragazzo qua, ha preso. Su tre blocchetti gli ho dato 40 euro, non me ne frega un cazzo, però li ho recuperati, due originali, perché io ho il topo di conservatorio, questo e la sella, questo fa questa e sella. Questa fa la sella e il blocchesterso. Il blocchesterso non ce l'ho. Però io ho anche le selle di corte. La mia di quando non si diceva. La mia, questa qua è quella che è stato restaurante e quella che è stato restaurante. C'è un po' le chiavi stamattina. La mia, questa qua è stata restaurante e la sua. La mia, questa qua è stata restaurante e la sua.